Potente a pala ragazzi, qua ho Axel, oggi ho vengato, oggi sono a sole e finalmente sono tornato a presentarvi un video sulla compraventa perché questo ragazzi è il mio Road 200k episodio 2 Allora innanzitutto in questo video sono partito da 15.000 crediti perché appunto ad arrivare a 15.000 crediti ho sempre utilizzato il metodo del prendere i giocatori a 250-300 e rivenderli di più Comunque ragazzi in questo episodio vi rivelerò un metodo molto importante, per me il più importante per fare compraventa, qual è questo metodo, qual è questo trucco, qual è questo consiglio Ragazzi bisogna fissarsi su un giocatore, che cosa vuol dire? Io in questo episodio utilizzavo Sao, mi sono fissato su Sao in che senso? Sono andato a vedere il suo prezzo compraora, come vedete qua appunto vi sto facendo vedere come si fa in poche parole e il suo prezzo compraora massimo in cui c'erano meno carte quindi quello che si compra più facilmente era 3.000 Quindi voi cosa dovete fare? Calcolando il 5% di tasse dovrete trovare un prezzo abbastanza potente con cui ci si possa guadagnare e prendere quel giocatore a quel prezzo Quindi io sono andato a cercare la 2.600 così che c'erano all'incirca 350 crediti di guadagno togliendo il 5% a 3.000 E poi fare le offerte su tutti gli oggetti che vedete, questo è molto importante perché fissandosi su un certo giocatore voi conoscerete sempre il suo prezzo, non potrete mai sbagliarvi E anche se si modificherà voi dato che usate sempre quel giocatore e ogni volta controllerete il suo prezzo Sapete appunto quando si alzerà a che prezzo comprarlo e quando si abbasserà a che altro prezzo Comunque se non avete capito a fine del video vi farò vedere un piccolo tutorial su come trovare appunto i giocatori per la compraventa Io in questo video come ho già detto utilizzo Sao, cosa ho fatto con Sao? Lo ripeto L'ho cercato a un prezzo di 3.000 compraora per vedere appunto quanti oggetti ce ne erano e ce ne erano un paio Quindi ciò cosa vuol dire? Vuol dire che se noi lo metteremo a 3.000 compraora sarà quasi sicuramente venduto praticamente subito E quindi poi lo si andava a cercare ad un prezzo inferiore a 2.700 Dato che è un 77 quindi non ha un rating molto alto, ciò significa che si trova spesso nei pacchetti Quindi ci sono tanti oggetti all'asta, cosa vuol dire? Ci sono tanti oggetti su cui si possono fare le offerte Proprio io, cioè, ne ho fatti un macello, infatti ho preso anche molti giocatori Una piccola cosa, beh, il guadagno non è enorme, però ragazzi fateci conto Beh, può essere anche di 300, di 250, ora rotondiamo facciamo 300 Ma voi iniziate già a comprarne 10 giocatori e già 3.000 e non mi sembra affatto male Se voi continuate avete i big guadagni proprio Comunque, allora, questo qua era il piccolo consiglio che vi davo Ora vi spiegherò un attimo come fare e quindi ci sente adesso bolla Ahimè ragazzi, ora so che si sentirà malissimo ma ho capito che è a Tubecatcher che fa sdrogheggiare il microfono Comunque, come trovare il vostro giocatore per la comprovinita Quindi, com'è che io ho trovato sao? Innanzitutto, bisogna cercare un giocatore, io consiglio oro Questo perché? Perché ci saranno spesso più oggetti all'asta Poi, una volta fatto ciò, il prezzo che dovete cercare ovviamente dipende dai vostri crediti Se ne avete pochi come me, 15.000, vi consiglio di andare a cercare un giocatore dai 1.000 ai 3.000 In modo tale che, vabbè, meno di 1.000 è difficile trovare dei giocatori oro rari da prendere E più di 3.000, appunto, se prendete più giocatori più di 3.000 non ne riuscirete mai a prendere tanti da guadagnarci Quindi, è una cosa un po' tattica Quindi, noi facciamo prezzo minimo 1.000 e massimo 3.000 Una volta fatto ciò, schiacciamo su cerca e ci, appunto, spunteranno i giocatori Io consiglio di puntare su quelli oro rari Poi, boh, vi basterà andare a cercarli E appena ne vedete uno che vi ispira, dite, ma sì, proviamo su quello Io ho visto che mi ispiravo a Mertens, quindi cosa faccio? Vado a cercare nazionalità belga, non del Benin Poi campionato Serie A, Napoli, ruolo, scusate, poi qualità oro e un'ala sinistra Quindi voi cosa dovete fare? Andate a fare prezzo massimo di compra ora Magari cercate 2.000, non ci sono oggetti, fate 3.000 3.000 ci sono oggetti, quindi cosa dovete fare? Abbassate, facciamo 2.200 2.300 E a 2.300 ci sono gli oggetti, ciò vuol dire che noi lo riusciremo a vendere a 2.300 Quindi, calcolando il 5% di tasse, che fate che è all'incirca, è un 110, una cosa così Noi andremo a cercare il giocatore a 2.000, per appunto farci anche un po' di guadagno Guardate già quanti giocatori, qua ce n'è uno così, facciamo l'offerta Ce n'è un altro a cui hanno già fatto l'offerta, quindi andiamo avanti Qua ce n'è uno a 1.900, facciamo l'offerta, 2.000, aspettiamo Come vedete, essendo un 80, come ho già detto, non ha un rating molto alto Si possono trovare una marea di oggetti, ad esempio qua uno a 1.200 Quindi noi cosa facciamo? Facciamo l'offerta di 2.000 E così bisogna fare con tutti i giocatori, ragazzi Alla fine vi assicuro che ci sarà un buon guadagno Quindi buon ragazzi, questo qua era il principio fondamentale della compravendita E spero che il video vi sia piaciuto Magari se riusciamo a raggiungere i 700 mi piace mi fareste veramente felice E vi ricordo anche di andare a vedere il secondo canale Che lì sto caricando i pack of the day E detto questo io vi saluto e vi dico potente A pala al centro al prossimo video Bolla!